Il coro della nostra scuola, molti ormai lo sanno, si è costituito dieci anni fa, trate alla passione educativa di tre docenti, in un progetto che facesse fare esperienza, far vivere agli studenti un'esperienza di armonia, di condivisione, di bellezza, attraverso la musica, in particolare attraverso il canto corale, che li educasse ad esprimere e insieme ad ascoltare, a comunicare e insieme ad aver cura di ciò che l'altro ha da dire, ad affidarsi al maestro, a seguirlo, a sperimentare il valore del sacrificio per raggiungere un obiettivo. Attualmente il coro è costituito da circa 60 studenti che frequentano le classi dal primo al quinto anno e il coro è diretto dalla professoressa Alessandra Muschella, docente di matematica e fisica del nostro istituto. Siamo particolarmente lieti di essere qui stasera anche per l'opportunità che abbiamo di vivere il canto, l'esperienza del canto, come atto di amore, di condivisione insieme all'Associazione Il Ponte di Fermo. Invito una dirigente scolastica, la professoressa Marzia Ripari e il vicepresidente del Ponte, il signor Maurizio Alberti. Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi stasera. Devo dire che è un appuntamento tradizionale che aspettiamo ogni anno, anche con emozione, perché è l'occasione che noi diamo ai nostri giovani del liceo scientifico di esprimere quello che hanno dentro i termini di sensibilità musicale, di gusto estetico, ma soprattutto di desiderio di formulare gli auguri per il nuovo anno, affinché questo anno porti ogni serenità e speranza a ciascuno di voi. Quindi pensate che appreteranno brani celebergini che voi conoscete e ogni testo sarà un messaggio particolare inviato a ciascuno di voi affinché la gioia e la speranza del 2017 possano veramente concretizzarsi. E poi tutti insieme naturalmente vogliamo a nostra volta esprimere il nostro migliore augurio ai giovani, quindi ai nostri studenti, ma a tutti i giovani, affinché questo anno sia l'inizio di un futuro migliore. Sia soprattutto espressione delle speranze, dei sogni, dei desideri, dei giovani perché possano poi regalare a noi adulti e al mondo l'espressione più autentica e sincera di quello che vuol dire essere esempio di professionalità, di sensibilità, di generosità verso il prossimo, di comprensione nei confronti di chi ha bisogno. Una serata all'insegna della solidarietà e dell'educazione alla professoressa, come diceva la nostra professoressa che è docente di italiano e latino, professoressa Grassi, docente amatissima dagli studenti, quindi ci dico insomma a farlo presente. e accanto a me vicepresidente dell'associazione Sponte, vicepresidente che potrebbe dire naturalmente che vorrà naturalmente darci qualche dettaglio in merito a questa associazione che scoglie di sognosi. Volentieri, innanzitutto vi ringrazio a voi e agli studenti perché avete pensato a noi, ma non a noi direttamente, ai nostri ospiti direi. Io per dare concretezza al mio intervento, oltre a quello che avete trovato scritto nel Deblian che forse avete preso all'ingresso o che mi è stato distribuito, volevo propormi una cosa in onore anche della professoressa Moschella, che è una professoressa di matematica, allora volevo proporre a tutti voi di fare una cosa che probabilmente non fate da tanto tempo. Immaginate, chiudete gli occhi, immaginate di fare una moltiplicazione. Senza l'ausilio della calcolatrice. Allora immaginate di fare una moltiplicazione 365 per 53. Cosa viene fuori? Qualcuno l'ha fatto? Mi semplifico la vita. 19.345. Cosa sono questi? Questi sono i pasti preparati, li ho scritti perché sono i pasti del 2016 e questi sono i numeri del 2016 che non ho ancora memorizzato e quindi sono 19.345 pasti fatti dal ponte, preparati nell'anno scorso. Direi che forse siamo il più grande ristorante della provincia di Fermo. Il rapporto qualità-prezzo è indiscutibile. Vi volevo dare qualche altro numero. Noi prepariamo delle borse alimentari per dei nuclei familiari e nel corso del 2016 ne abbiamo preparate 3.200. Abbiamo fatto un conto che abbiamo assistito con queste borse alimentari 11.500 persone. Gli accessi al guardaroba. Noi ritiriamo l'abbigliamento buono che ci viene donato. A questo proposito accolgo l'occasione per ribadire un concetto. Nella città di Fermo ci sono i cassonetti gialli e lì da una parte c'è scritto che è ricavato a Nera al ponte. Ma se voi mettete qualcosa di buono in quel cassonetto, quel vestito, quelle scarpe vanno comunque come rifiuto agli stracci. Poi chi raccoglie il tutto alla fine dell'anno dà un contributo al ponte. Se avete invece un abbigliamento adeguato, buono, pulito, da poter riciclare adeguatamente, dovete consegnarlo direttamente ai nostri volontari. Questo è un piccolo esempio. L'altra cosa che volevo dire è che gli accessi al guardaroba, quindi gente che viene a prendere dalle coperte, alla biancheria intima, alla roba per bambini, scarpe, eccetera, nel corso del 2016 sono stati circa 3.000. Poi siccome abbiamo molta gente che noi non vediamo e che vive per strada, sappiate che il ponte fa anche il servizio delle docce, offriamo ai nostri ospiti. C'è gente che ha bisogno di fare dell'igiene personale e noi abbiamo fatto nel corso del 2016 circa 600 dolce abbiamo offerto ai nostri ospiti. La cosa che volevo dire è che al ponte non ci sono mai due giorni uguali perché cambiano gli ospiti, perché cambiano i volontari e una cosa però succede da tanti anni, da 30 anni, perché il 2017 è il trentesimo anno di vita del ponte, una cosa succede sempre, perché alle 12.40 di tutti i giorni dell'anno, Natale, Pasqua, Ferragosta, ditali voi, tutti i giorni dell'anno, alle 12.40 i piatti sono pieni. Questo succede da 30 anni al ponte, ma questo può succedere soltanto perché abbiamo la collaborazione di tanti, di tutti forse vorrei, di tutta la popolazione di Fermo, di Porto San Giorgio, del circondario, abbiamo convenzioni con le amministrazioni di Fermo, di Porto San Giorgio e con gli altri. Siamo trasversali aperti a tutti, a vantaggio di molti e di moltissimi. Un dato, negli anni precedenti i numeri dei nostri ospiti erano molto più bassi e la percentuale erano stranieri. Il 2016 ha portato, e anche il 2015 per la verità, ha portato un incremento dei numeri assoluti. Nel 2016 c'è stato il sorpasso, purtroppo, nella nostra menza, sono più italiani che stranieri. l'abbiamo avuto come realtà ultima. Quindi collaboriamo con tutti, abbiamo un'iniziativa in corso che è al termine, che chiuderà domenica pomeriggio, se l'influenza ci salva qualche volontario che viene aperto, questo piccolo negozietto che abbiamo sotto piazza a Fermo, in cui ad offerta cediamo dell'oggettistica anche molto bella e anche molto di valore, e i fondi ovviamente vanno per le nostre attività. Io vi chiedo di essere generosi alla fine di questa manifestazione, perché il teatro e lo spettacolo che i ragazzi ci daranno sicuramente lo meritano. In fondo troverete all'uscita due recipienti dove mettere le vostre offerte, e io vi dico che per quanto volete essere generosi questa sera la vostra vita non cambierà. Quindi spero che possiate essere veramente generosi. e questi due recipienti sono due pentole, giusto per ricordarvi che le vostre offerte vanno per l'acquisto di alimenti per la nostra mezza. Grazie, buona sera. La ringrazio e di nuovo un carissimo augurio per il 2017 alle autorità presenti, dottoressa Sagretti, dirigente dell'ufficio scolastico regionale, ufficio quarto, per la scolificena e fermo, la dirigente Anna Maria Vecchiola, il vice sindaco del comune di Porto San Giorgio, buonasera, vice sindaco del comune di Fermo, buonasera a voi, onorevole Ceroni, non riesco a vedere bene perché comunque tutte le autorità e i presenti di nuovo un abbraccio da parte dei nostri studenti bravissimi, sia dal punto di vista... bravissimi studenti dal punto di vista non solo musicale ma anche del profitto e devo dire che ci danno veramente grandi soddisfazioni. Grazie da presentare veramente un esempio e un motore per il territorio, per l'offerta formativa del territorio, per il turismo, per l'attrazione e la superiore e la cultura e le manche non solo della di Fermo a Porto San Giorgio. Grazie, grazie, buonasera a voi. Grazie e un'ultima precisazione. I canti saranno preceduti dalla traduzione dei testi letta dagli studenti Letizia Manardi e Matteo Pasquali. A questo punto vi auguriamo con ascolto. grazie. 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 Applausi. Applausi. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Applausi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Per chi sei perfetto, che ne d'oggete tu se chan, che manche delle conquette, meri se ti trionfano. Gloria in eccessi steu, Gloria in eccessi steu. Che chante le rivage, qui la monette sous ce chan, a tonnui et un dommage, n'ayant qu'elle était mon croix. Gloria in eccessi steu. Gloria in eccessi steu. Applausi steu. Da qualche parte c'è più amore. Non mollerò finché non l'avrò trovato. Da qualche parte c'è più amore. Gloria in eccessi steu. Grazie. 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 Ascolta come le campane, le dolci campane d'argento, sembrino dire buttavia le preoccupazioni. Natale, il Natale è qui e porta tanta allegria ai giovani e agli anziani, ai doci e agli audaci. Din, don, din, don. Questa è la loro canzone. Con un suono gioioso, tutte cantano. Una persona sembra poter ascoltare parole di tanta allegria provenire da ogni parte. Chiempire d'aria. Oh, come battono, come si aumenta la musica oltre la collina e la valle. Raccontando la loro storia, suonano felici mentre le persone cantano canzoni con tanta allegria. Il Natale è qui. Buon, buon, buon Natale. Inviano i loro toni felici in ogni casa senza fine. Dim, don, dim, don. All' corners. Come battere tutto, ci Julian. Chiun-No, chiun. No, chiun Grazie a tutti. 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 Il nostro cuore trepida è nato il Salvatore. Gesù nostro cuore ci aprirà, le porte ci aprirà, un figlio dell'Altissimo con noi sempre sarà. Grazie a tutti. Come dolce il suono che ha salvato un farabutto come me. Una volta ero perso, ma ora sono stato ritrovato. Ero c'è il suono. Grazie a tutti. 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 Ho fatto del mio meglio. Non era molto. Non potevo sentire. Così ho tentato di toccare con mano. Ho detto la verità. E non volevo indennarti. E se nonostante questo tutto andasse male, arriverò davanti al Signore della musica con nient'altro nella mia voce che questo alleluia. non è un'altra cosa. Non è un'altra cosa. Grazie a tutti 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 Oh giorno felice Mi hai insegnato come amare Battere e pregare E vivere ogni giorno con allegrezza Oh giorno felice Oh happy day Oh happy day When Jesus walks When he walks When Jesus walks When Jesus walks Oh happy day Oh happy day Oh happy day Oh happy day When Jesus walks And Jesus walks That's where he walks When Jesus walks When Jesus walks When Jesus walks Oh happy day Oh happy day Oh happy day Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.